ciao a tutti amici di tubertina equality in questo mini video vi presento i connettori per poter cambiare il terminale sul metodo in maniera rapida e veloce sto parlando dei nostri metodo easy change disponibili in due diverse misure m ed s da utilizzare a seconda della grandezza del metodo che andremo ad utilizzare ora vi faccio vedere un modo veramente veloce per costruire la lenza questo per facilitare come detto prima la fase di sostituzione del nostro terminale la lenza è molto semplice passeremo il filo all'interno del nostro metodo dopodiché prenderemo i nostri attacchi rapidi passeremo il filo prima di tutto all'interno del gommino dopodiché prenderemo l'attacco rapido e passeremo la lenza madre all'interno del foro che trovate nella parte superiore dell'attacco rapido eseguendo un nodo clinch e serrandolo avremo creato quello che è una lenza per la pesca method adesso che abbiamo creato la nostra lenza non ci resterà che aprire il nostro connettore e inserire il nostro terminale nell'area predisposta per il suo alloggiamento un saluto a tutti ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao